Italia 1! Walter Zenga! A Dulae! Ma vediamo come è andato il pasticcio del luna! Talmente clamoroso! Che veramente io non riesco a capire come non ci possa essere un seguito! Sardo io! Voglio una presidenza che vada via! Ma è una squadra di serie! Ha giocato e ha vinto con il Napoli! Prego dalla regia! Tiki Taka! Lunedì, in seconda serata, su Italia 1! No!